Come Maurizio Viscidi parliamo della Nazionale Under-19 che domani giocherà in amichevole contro il Kazakistan. È una nazionale che promette bene, ci sono all'interno della squadra tanti talenti. Sì, la Nazionale Under-19 con i nati 94 ha dei buonissimi giocatori, alcuni dei quali riescono con una certa continuità a giocare anche nelle prime squadre. Abbiamo gente che ha giocato in Serie A in Europa League da Benassi dell'Inter, Murru in Serie A con il Cagliari, Insigne, il fratello, l'abbiamo sempre con il Napoli. Insomma abbiamo una rosa di giocatori buona che ben ci fa sperare per l'europeo. Parlava di Benassi, in effetti ha debutato anche in prima squadra con l'Inter, si tratta di giocatori che sono anche pronti per giocare, se non in Serie A, comunque andare a fare esperienza in Serie B con continuità? Sì, adesso giocare in Serie A o in Serie B sono delle valutazioni che aspetta alle società. Mi spiego, con le rose di Serie A che sono ormai 22 giocatori che vanno in panchina, c'è molto spazio anche per i giovani. Con la crisi economica c'è ancora più spazio per i giovani, quindi molti di questi sono aggregati alla prima squadra costantemente. Che se da una parte è un vantaggio, perché così si allenano con i giocatori della prima squadra della Serie A, dall'altra toppe volte fanno panchina lunga e non fanno minutaggio. Quindi abbiamo degli aspetti positivi e negativi come in tutte le cose, però sono giocatori che comunque si allenano sempre con dei compagni di Serie A. Allavamo di centrocampisti, Cristante del Milan si è messo particolarmente in luce al torneo di Vareggio, è un giocatore su cui i rossoneri puntano molto. Lei che idea si è fatta su questo calciatore? È un calciatore che è con noi da tanti anni, dall'Under 15 addirittura conosciamo benissimo, ha fatto tutta la trafila. L'anno scorso Under 17, un passaggio in Under 18, adesso addirittura in Under 19, ha già debuttato in Champions League. Giocatore molto tecnico, con grande capacità di calcio, soprattutto nel calcio a lunga distanza. Deve, secondo me, trovare una continuità nel ruolo. Quest'anno è passato dal fare la mezzala a fare il centrocampista centrale, addirittura il difensore centrale nella propria squadra per poi tornare a centrocampo. Penso che debba trovare ancora una dimensione tattica sicura, però dal punto di vista tecnico il giocatore è di primissimo livello. Che valutazione invece dà di un portiere come Gollini, che ha deciso un paio di anni fa di andare a vestire la maglia del Manchester United, ha lasciato l'Italia, ha fatto questa scelta. Secondo lei è stata produttiva, può essere produttiva anche per il futuro? Gollini, io l'ho conosciuto che già stava al Manchester, perché noi siamo nelle nazionali dal 2010. Lui era già al Manchester. Io spero sempre che i giocatori rimangano in Italia, perché così per noi è più semplice vederli, è più semplice convocarli, è più semplice seguirli. Dal punto di vista tecnico, essendo quello del portiere un ruolo nel quale io non ho grandissima e specifica competenza, non so se in Italia sarebbe migliorato di più o di meno. Ha fatto questa scelta, io se posso dare invece un consiglio, anche interessato ai giovani italiani di rimanere in Italia, perché è cambiato il vento, si investe sui giovani, noi delle nazionali seguiamo molto i giovani, i club propongono i giovani, quindi io penso che stare in Italia, o comunque prima di lasciare l'Italia, bisogna rifletterci molto. E Vani invece che allenatore è? Si può dire che è sulle orme di Sacchi, almeno come pensiero? Assolutamente sì, calcisticamente parlando, si può dire che è un figlio del mister Sacchi, allena la squadra e propone un calcio che è chiaramente quello del nostro coordinatore, quindi è un allenatore assolutamente in linea con quelli che sono i nostri programmi, i nostri progetti, sta lavorando bene, l'anno scorso ha sfiorato una qualificazione, agli ultimi 5 minuti perdendo con la Spagna che poi è diventata campione d'Europa. Speriamo quest'anno con un girone non facile di riuscire ad arrivare alla fase finale, in modo da fare un unplan, visto che con Under 17 e Under 21 siamo alle fasi finali.